A A Napoli si susseguono le aggressioni al personale del 118 da parte di persone spesso esasperate dai ritardi dei soccorsi. In alcune vie del centro di Napoli per le ambulanze è impossibile passare a causa delle auto in divieto di sosta. Un'ambulanza del 118 è larga 2 metri. Siamo andati a misurare lo spazio di passaggio in alcuni vicoli del centro. Un'ambulanza del 118 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono decine i vicoli di Napoli ostruiti dalle auto in divieto di sosta, un fenomeno che mette a rischio i soccorsi.